Adesso siamo nella congestionaria Marconi che si occupa della vendita di moto e di biciclette e siamo con Domenico che è uno dei titolari. La ripartenza come sta andando? Diciamo che le prime due settimane che abbiamo riaperto una gente sta venendo anche perché dopo due mesi di risosta era quasi prevedibile. Il problema secondo me è più in avanti. Quindi attualmente che cosa chiedono di più? Attualmente il prodotto che più richiede sono le bici elettriche. Le biciclette? Elettriche però. Elettriche che danno un aiuto insomma quando uno non gliela fatta. Diciamo che secondo noi è il veicolo del futuro e la gente sta capendo anche per il fatto che diciamo che magari viaggia da solo quindi non ha contatti con altre persone e non va con i mezzi pubblici magari. Noi vediamo là vediamo anche tante moto. Quali sono le moto? Noi le moto diciamo che lo scooter è stata la nostra da sempre diciamo. Viaggio Marconi è viaggio. Gli anni settanta diciamo è il nostro cavallo di battaglia. Però diciamo in questo periodo oltre agli scooter abbiamo inserito le biciclette che stanno andando abbastanza bene. I prezzi sono contenuti, aumentati, calati? Come siete messi? I prezzi più o meno sono stabili. L'unica cosa che diciamo le aziende essendo stati chiusi un paio di mesi diciamo non c'è grossa disponibilità di prodotti. Cioè si comincia a scarseggiare un pochettino. Se il mercato continua ad andare così poi ci sarà un calo come dicono spero di no. No, però non c'è stato il calo che si possa tornare a vendere. Il problema come dicono tutti in autunno. No, lascia stare. La prendiamo adesso a vendere biciclette elettriche che vanno per la... Adesso, adesso... E questo è un tipo per esempio. Sì. Noi trattiamo tre marchi, Halloween, Ecletta e Cinzia. Noi sono dei marchi, diciamo questi qua, sono dei marchi diciamo meglio alti come qualità principalmente questo tipo di bicicletta qua che è un gente diciamo un po' per tutti diciamo non i sex, sia per donne giovani che più anziani. Partiamo dai 1000, 1100 a salire. E poi invece è dura, non sono resistenti. No, no, questi hanno due anni garanzia, poi tutti i prodotti italiani che noi trattiamo da una grande... Però la moto è la moto. La moto è un'altra cosa, lo scooter è un'altra cosa, diciamo, uno deve fare dei spostamenti un po' più lunghi, normale che lo scooter, la bicicletta non so se dice lo scooter, ci ho fatto due cose diverse. Grazie, bocca al lungo, buon lavoro. Grazie a voi.